La prima cosa da fare per poter cominciare a utilizzare velocemente il software è sicuramente il popolamento dei menu a tendina da cui poi faremo le nostre scelte tipo la tipologia del corso, i nomi dei direttori docenti e codocenti eccetera e tanti altri campi in cui ci sono i menu a tendina. Quindi le agenzie formative, le attività dell'HCCP, la categoria, gli enti, i nominativi, le piattaforme, la sede, il settore, la tipologia dei corsi, quindi in ordine a tutti questi oggetti, tutte le voci che sono più ricorrenti e che si utilizzano frequentemente si inseriscono subito di modo di trovarle rapidamente e poi in qualunque momento ne potremo inserire di nuove. Faccio notare questa qui sui nominativi dove inseriremo il nome e il cognome, il recapito, la mail, questi sono tutti i campi obbligatori e la firma perché verranno automaticamente pescati nel momento in cui in qualsiasi corso andremo a inserire per esempio il nominativo di Alberto Rossi. Quindi popolare queste tendine all'inizio è subito molto importante.